Salutiamo i telespettatori di TR News. Oggi vi salutiamo da un luogo incantevole, da Specchia nel Basso Salento. Da qui vi guideremo attraverso il nostro viaggio di oggi. Da Lucugnano con Anna e Giuseppe per una stella di Natale che porti bene a tutti. Da San Marzano per raccontarvi le gesta eroiche e leggendarie del brigante più famoso del Salento, Cosimo Mazzeo, detto pizzichicchio. A Sandana, la piccola frazione del Galliano del Capo, un gioiellino da scoprire all'interno della cripta del Santa Polonia. Dalla Torre di Beloluogo per ritessere la parabola umana e regale di Maria D'Anghen, principessa di Lecce e regina di Napoli. Oggi vi porteremo a Taurisano a scoprire i luoghi del filosofo Vanini e lo faremo insieme a Mario Carparelli, suo studioso, principale, anche lui, filosofo. Infine siamo stati a Mesagne per preparare gli gnocchetti con il baccalà, le pitture con il baccalà ed un sacco di bontà. Avete visto? Un viaggio suggestivo, quello che vi offriamo oggi nelle terre del Salento alle 21.30. Vi aspettiamo! Grazie! Grazie!